I prodotti dell'Officina Pollicino si possono trovare nella sede dell'Associazione Pollicino in via 30 Aprile numero 5 a Belluno, dietro alle poste. Qui potrete vedere tutti i prodotti che vengono fatti a mano con grande qualità dalle nostre volontarie. Sono tutti prodotti che hanno una grande qualità anche perché sono prodotti fatti con lo stile di una volta. Infatti possiamo vedere qui la nostra nonna Emilia che ha 87 anni, sta lavorando ad uncinetto. Questi prodotti intanto vengono realizzati a mano. Comunque si usa cotone e si usa lana per bambini, lana baby. Le nostre volontarie lavorano ad uncinetto ma anche con la macchina da cucire. Abbiamo qui Lella che è una delle prime volontarie che hanno prestato il loro tempo per l'Associazione Pollicino e ci sta facendo vedere proprio in diretta come realizza un sacchettino per le bomboniere solidali perché all'Officina Pollicino potete trovare anche delle bomboniere per ogni occasione. Fatte comunque con dei tessuti pregiati, con del cotone assolutamente scelto e adatto per tutte le vostre occasioni per renderle uniche e speciali nel loro genere. Per tutte le informazioni potete chiamare il nostro ufficio allo 0437 26 43 4 oppure visitare il sito dell'Associazione www.comitatopollicino.org o seguirci con la nostra pagina Facebook. www.comitatopollicino.org